Promuovere i prodotti andriesi all'estero, un'idea concreta per valorizzare il territorio federiciano. Ad Andria si è svolto l'incontro organizzato da Andria Export tra gli imprenditori andriesi e l'Agenzia di Belgrado per la promozione all'estero e l'internalizzazione delle imprese italiane. È un'iniziativa che abbiamo voluto creare con un gruppo di imprenditori perché Andria ha tante potenzialità nel mondo dell'artigianato, nel food e non food, anche nel tessile. Infatti questo grande onore di ricevere la trade analyst dell'Istituto del Commercio Estero di Belgrado proprio per mettere in condizione di conoscere le nostre potenzialità. Abbiamo fatto anche una visita presso alcune aziende del territorio e in realtà abbiamo scoperto delle realtà fantastiche che quindi possono tranquillamente esportare i nostri prodotti genuini, affidabili dal punto di vista del consumo all'estero e in questo naturalmente la trade analyst è stata molto attratta dalle nostre potenzialità. Ecco, questa voglia di questo territorio, di guardare al di fuori dei propri confini, può essere assecondata? Sicuramente l'agenzia ICE che opera in più di 70 paesi del mondo, opera anche in Serbia, può sempre assecondare gli imprenditori italiani che vogliono andare e allargare la propria attività in altri paesi, dando delle informazioni utili e accorciando in tempi di avvicinamento ad un mercato nuovo, sempre nuovo per imprenditori italiani. Grazie. Grazie a tutti.